Buongiorno a tutti, a me il compito di introdurre i relatori e con l'occasione li ringrazio per la loro partecipazione, oltre a ringraziare tutti voi per la presenza. Vado rapidamente a percorrere il programma della giornata, il titolo di questo workshop è Aspetti innovativi con particolare riferimento al comportamento strutturale sotto carichi ripetuti, che è l'argomento centrale delle relazioni, però come vedete già dalla prima, lo stato dell'arte del know-how Fischer, sismico, carichi mantenuti, fuoco, fatica e la trasmissione del taglio, entriamo in argomenti che riteniamo di grande interesse per il progettista e questi saranno presentati dall'ingegnere Enrico Di Donato, che è responsabile collegamento e rinforzo strutturale nella nostra azienda. Successivamente avremo la relazione del professor Paolo Lazzarin dell'Università di Padova, il tema è quello della introduzione al problema della fatica, con particolare riferimento anche alle prove che abbiamo eseguito e che mostreremo con l'ultima relazione. Due parole sul professor Paolo Lazzarin, che è professore ordinario di costruzione di macchine, insegna presso la sede di Vicenza, è autore di 85 articoli pubblicati su riviste internazionali, ha un'attività di ricerca orientata prevalentemente a calcolo strutturale, studio analitico dell'effetto di intaglio, con il metodo dei potenziali complessi, meccanica dei materiali, progettazione a fatica di componenti meccanici, di unioni saldate, bullonate e incollate. Svolge attività di revisione per diverse riviste internazionali su temi legati alla fatica e alla meccanica della frattura dei materiali metallici. Un ringraziamento particolare al professor Lazzarin anche perché è stata la guida della nostra campagna di ricerche per gli ancoranti chimici, di quali parleremo successivamente. La relazione successiva è quella dell'esperienza di Italfair nel settore ferroviario. La esporrà l'ingegner Luigi Evangelista, che è responsabile dell'unità operativa Ingegneria Civile, è convolto in importanti progetti perché sapete tutti che Italfair è la società di ingegneria di RFI, che partecipa a riunioni di comitati tecnici per quanto riguarda le normative e anche come relatore a vari congressi e convegni internazionali e nazionali e dal 2007 tiene annualmente lezioni presso il master di secondo livello della facoltà di ingegneria dell'Università di Roma alla Sapienza e dell'Università Roma III. Un'altra esperienza molto interessante è quella del settore metropolitano e di metropolitana milanese e il relatore è l'ingegner Gabriele Garlone, che è progettista strutturale di armamento metropolitano presso la società metropolitana milanese S.P.A. all'interno dell'unità tecnica delle opere civili. Si occupa di progettazione, di assistenza alla direzione lavori e anche di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per quanto attiene all'armamento metropolitano, sia mediante lo studio di nuovi materiali, sia mediante la progettazione di tipologie di armamento diverse da quelle attualmente utilizzate. E infine c'è la mia relazione che verte sulla campagna di prove che abbiamo eseguito su ancoranti chimici e la presentazione di uno strumento di calcolo per le verifiche a fatica relative a queste tipologie specifiche. Io vi ringrazio innanzitutto ancora, auguro buon lavoro e cedo la parola all'ingegnere Enrico Di Donato.